Adriano Celentano, patrimonio, ecco quanto ha accomodato Adriano Celentano è una delle figure più iconiche della musica italiana, un artista poliedrico che ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento unico e il suo stile inimitabile Nato a Milano il 6 gennaio 1938, Celentano ha iniziato la sua carriera musicale negli anni 50, in un'epoca in cui il walk and roll stava appena iniziando a farsi strada in Italia Con la sua voce inconfondibile e il suo modo di muoversi, che gli valse il soprannome di molleggiato, Celentano ha introdotto nel paese un genere musicale fino ad allora prevalentemente americano, portandolo al centro della cultura popolare italiana Il contributo di Celentano alla musica italiana è immenso Fin dagli esordi, si è distinto per la capacità di combinare il rock con elementi della tradizione musicale italiana, creando un suono che era allo stesso tempo nuovo e familiare Questo mix di innovazione e tradizione ha fattosi che brani come Il ragazzo della Via Glac, Azzurro e Svalutation diventassero dei classici senza tempo, ancora oggi apprezzati e cantati da generazioni di italiani Oltre alla musica, Celentano ha dimostrato di essere un artista a tutto tondo, cimentandosi con successo anche nel cinema e in televisione La sua carriera cinematografica, iniziata negli anni 60, lo ha visto protagonista di numerosi film che hanno consolidato la sua popolarità Pellicole come Serafino e Il bisbetico domato sono diventate dei cult, contribuendo a definire l'immagine di Celentano come uno dei personaggi più amati del panorama artistico italiano In televisione, Celentano ha saputo sfruttare il mezzo con una maestria unica, diventando uno dei volti più riconoscibili e influenti della tv italiana I suoi programmi, come Fantastico e Francamente me ne infischio, sono stati seguiti da milioni di telespettatori, confermando la sua capacità di intrattenere e di far riflettere il pubblico con la sua ironia e il suo spirito critico Ma Celentano non è solo un artista di successo, è anche un uomo d'affari astuto Nel corso della sua carriera, ha accumulato un patrimonio notevole, frutto non solo dei proventi della sua attività artistica, ma anche di investimenti immobiliari strategici Secondo stime recenti, il patrimonio di Celentano comprende una vasta proprietà immobiliare che include 31 fabbricati e 83 terreni distribuiti tra il centro e il nord Italia Questo imponente patrimonio immobiliare, assieme ai diritti sulle sue opere, rappresenta un vero e proprio tesoro che sarà probabilmente ereditato dai suoi tre figli, Rosita, Giacomo e Rosalinda Celentano è riuscito a mantenere intatta la sua popolarità per oltre sei decenni, un'impresa rara nel mondo dello spettacolo Il suo segreto risiede forse nella sua capacità di reinventarsi continuamente, senza mai perdere di vista le sue radici Che si tratti di musica, cinema o televisione, Celentano ha sempre saputo come catturare l'attenzione del pubblico, affrontando temi sociali e politici con una profondità che ha reso le sue opere non solo intrattenimento, ma anche spunto di riflessione In conclusione, Adriano Celentano è molto più di una semplice star della musica italiana, è un'icona culturale, un simbolo di creatività e di successo Il suo patrimonio artistico e materiale è il frutto di un talento straordinario e di una visione imprenditoriale lungimirante La sua storia è un esempio di come la passione, l'innovazione e la determinazione possano portare al successo, lasciando un'eredità duratura che continuerà a influenzare le generazioni future Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti